Una giornata di protesta da parte delle palestre in tutta Italia, una apertura simbolica delle stesse per dire no ai provvedimenti assassini, perché così vanno definiti, da parte del governo Conte e del premier Conte. Perché si tratta davvero di uccidere una categoria costringendola a rimanere in eterno chiusa a causa Covid, quando invece le palestre stesse assicurano ogni forma di garanzia, di applicazione delle misure anti-Covid. E' un accanimento che strazia l'economia, una manifestazione pacifica ma determinata da parte dei gestori delle palestre. Qui a Taranto abbiamo così in circolo, assicurando il distanziamento, vari rappresentanti, vari titolari. E allora iniziamo da Fabrizio che è il titolare della GIM19, un settore che è stato davvero dilaniato. Eppure voi avevate anche investito per assicurare ogni misura idonea a garantire quelle prescrizioni imposte dal governo. Certo, noi sin da subito ci siamo adeguati, siamo qui oggi a ribadirlo, l'abbiamo detto più volte, diciamo sempre le stesse cose, ma mi sembra che nessuno ci ascolti. Per quello che riguarda le palestre, seppur identificate con diverse categorie, SD, SSD, SRL, siamo tutti nella stessa barca. Siamo chiusi da ormai troppi mesi, la situazione è diventata insostenibile. E quindi oggi simbolicamente siamo qua a dimostrare di voler aprire. Noi siamo la categoria che in assoluto garantisce il cliente più degli altri, con applicativi per la prenotazione, le diverse misure di igienizzazione, i registri di igienizzazione degli ambienti periodici, quotidiani che vengono svolte. Insomma, le norme noi le rispettiamo. Non vogliamo fare oggi polemica perché è diventato inutile, ma vogliamo dimostrare la voglia e soprattutto la necessità estrema che abbiamo di aprire le nostre strutture. Fabrizio, da quanto tempo siete chiusi e i danni proprio economici che avete subito? I danni economici sono oggi ormai diventati esagerati. Lo Stato si è inventato questo termine che è il ristoro, che a noi non serve praticamente a nulla. Il bello e il brutto è che i ristori neanche arrivano. Devo dire in tutta onestà che qualcosa è arrivato, ma con altrettanta onestà vi dico che sono serviti bene a poco. Seppur rapportati alle varie realtà, come dicevo prima, ognuno di noi ha percepito una somma che non è più che un ristoro, sembra un'elemosina. Al che io dico, noi non abbiamo bisogno di ristori, non chiediamo neanche il risarcimento. O meno, io personalmente vorrei essere risarcito, non lo chiedo, ma oggi sono qui a chiedere di poter riaprire l'attività, non soltanto per me, ma anche per i miei clienti e amici che continuamente, giorno per giorno, mi messaggiano su Instagram, su Facebook, su WhatsApp, con la voglia di riprendere l'allenamento, perché l'allenamento è stare bene, non soltanto fisicamente, ma anche mentalmente. Passiamo ad altri colleghi, abbiamo Gaetano Coletta. Allora, Gaetano, che dire, il campionato di calcio può andare avanti, ma le palestre sono quelle brutte, sporche e cattive, come se nelle palestre ci fossero gli unturi. Allora, siamo di fronte a una situazione totalmente paradossale, perché nonostante tutto, se andiamo anche nello specifico del campionato di calcio, come è stato esposto, dobbiamo anche riconoscere che anche i calciatori stessi fanno utilizzo di palestra e quindi tutto ciò che ruota attorno a qualsiasi attività sportiva. Gli allenamenti dei calciatori non è che avvengono così, però per virtù dello Spirito Santo? Naturalmente tutto questo loro lo giustificano con l'utilizzo del tampone periodico. Noi abbiamo chiesto anche questo, abbiamo chiesto anche l'opportunità di prevedere l'ingresso delle persone con un tampone periodico, con l'utilizzo di altri metodi, anche superiori, diciamo, come controllo della sicurezza. Purtroppo la categoria è stata totalmente ignorata, sono stati totalmente inascoltati qualsiasi tipo di consiglio che noi potevamo dare, ma d'altronde tutto verte sul discorso che essendo gestita dal comitato tecnico scientifico, che è ben poco a vedere, con l'uso che viene fatto delle palestre nella quotidianità, loro credono che la palestra sia un'attività superflua e non utile per l'economia italiana, quando invece al di là del discorso che c'è gente che ci lavora con le palestre come noi e che quindi viviamo di palestre e quindi abbiamo necessità di andare avanti e c'è tutto un indotto dietro, che non siamo soltanto noi titolari, ma sono anche le persone che ci lavorano intorno. C'è anche un discorso di salute laddove non viene certo in palestra una persona che ha dei sintomi del Covid e nonostante tutto noi abbiamo un protocollo molto severo che abbiamo sempre fatto applicare da quando ci hanno dato la riapertura. Perfetto. I contagi non ce ne sono, tant'è che recenti studi evidenziano proprio il fatto che le palestre sono quelle con un'incidenza addirittura dello 0,002% su un bacino di utenza che arriva a 50 milioni di persone nel mondo. I rischi sembrano esserci nelle palestre per il governo, ma evidentemente negli ipermercati no. Guardate questo striscione che hanno affisso gli amici delle palestre, giù le mani dalla palestra e con estrema nostalgia, senza entrare, guardate, vi facciamo vedere quello che era un mondo normale, quello che era un mondo di vita, quello che significava vivere secondo natura. Un quadro triste, vedete, desolato e desolante nel vedere appunto una struttura paralizzata, paralizzata materialmente, paralizzata economicamente. e il pensiero va necessariamente ai bei tempi in cui si poteva davvero, ci si poteva allenare, si poteva fare una vita sana. Ecco, stiamo così con altri gestori titolari di palestre. Lei è il signor? Io sono il dottor Palomba Alessio, sono il titolare dell'ASD Power Gym di Taranto di Massafra. Il suo pensiero, penso che davvero siamo, siete arrivati all'esasperazione. Sì, siamo arrivati a un punto quasi di non ritorno. La cosa più dolorosa è vedere i nostri sacrifici buttati per l'incompetenza di persone che molto probabilmente non hanno nemmeno mai frequentato un centro sportivo. Io parlo e metto la voce anche di tanti miei clienti, la filiera sportiva non è solamente l'atleta, ma è anche la persona affetta da Parkinson, la persona diabetica, che vengono da noi per stare bene. Per non dire anche delle persone che vengono in palestra perché sono affette di problemi di stress. Problemi diciamo psicologici. Sì, che la palestra è un loro sfogo e questo è stato tolto anche a loro. Proseguiamo, abbiamo altri. Lei e il signor? Lippo Claudio, titolare della palestra Gimmo 83, è di un'altra palestra che è in attesa dell'apertura in quanto stavamo provando ad aprire un'altra struttura in centro nel Borgo, ma finita, siamo con le serrande abbassate perché aspettiamo che la grazia di qualcuno, grazia che non sta arrivando in quanto noi siamo l'unica. Che è una grazia, una dannazione che sta arrivando. La grazia è la loro, noi aspettiamo la loro grazia, in quanto noi siamo l'unica, l'unica a questo punto è forse toccata in parte anche la ristorazione come fascia sacrificabile. Sacrificabile senza spiegazioni perché oggi se ci guardiamo intorno la città è piena, la gente va in pulma. Basta camminare nel centro di Taranto, altro che assembramenti. La sciocchezza dello Stato, qual è? Che negli ipermercati puoi andare da lunedì a venerdì a fare il macello. Stato e domenica non si può fare, quindi non c'è una logica. Allora noi a questo punto chiediamo cosa? Di adeguarci agli altri, senza togliere nulla agli altri, però noi vogliamo essere trattati al pari degli altri. Come? Fasce orarie, va bene, fasce orarie. Gente contingentata, va bene. A nostre spese la sanificazione della struttura, l'abbiamo fatta, la continueremo a fare. Abbiamo pagato per mesi questa storia perché noi non siamo chiusi da tre mesi l'altra volta e tre mesi l'altra, noi siamo chiusi da un anno perché noi siamo stati chiusi da marzo a maggio, l'estate non si lavora in palestra, quindi siamo stati chiusi comunque. Abbiamo riaperto a settembre per due o tre mesi, ci hanno richiuso, quindi noi siamo chiusi da un anno. Bene. Non so se Fabrizio ci sono altri tuoi colleghi? C'è Alessandro Andriani. Ecco, Alessandro Andriani. Alessandro Andriani della Fit Time Faggiano, penso sia stato già detto tutto, un anno di chiusura, stiamo praticamente nella merda, scusate il termine. Fa bene a dirlo. È giusto così, non ho nient'altro da dire. Siamo all'esasperazione degli animi sia dei titolari ma soprattutto anche dei clienti amici che si allenano presso di noi. Abbiamo affrontato tutti i problemi che vanno dalla salute ai problemi anche psichici, di stress. La nostra clientela è eterogenea, non ci sono solo gli atleti che fanno i muscoli da noi in palestra, parliamoci chiaro, da noi viene una totalità di persone. Il professionista che arriva la mattina alle 6, si allena e poi va in ufficio. La gente apprezza la palestra perché è quella valvola di sfogo che gli dà la possibilità di affrontare la vita. La vita che in questo momento è diventata difficile, che hanno creato questo sistema oscuro di non socialità, per cui togliere anche questo canale significa aggravare ancora di più la situazione. Ribadisco, non ci sono evidenze scientifiche che dicono che in palestra ci si trasmette il virus piuttosto che in altri posti. Come è stato accurato l'ultima volta che Conte ci fece quella romanzina dove gli veniva detto che nelle palestre c'era questo assemblamento, abbiamo avuto dei controlli, controlli negativi, nessuno di noi è stato multato, quindi significa che da noi le cose vengono fatte come si deve. Tra l'altro, voglio aggiungere un'altra cosa, noi non solo siamo strutture chiuse, ma siamo strutture che al momento in cui verremo aperte, forse e non si sa quando, dovremo affrontare le spese che tuttora noi stiamo avendo, perché noi abbiamo gli investimenti, non ci sono più le palestre degli anni Ottanta che con le macchine che vengono acquistate una volta ogni trent'anni, noi abbiamo le macchine che le teniamo sempre aggiornate, quindi abbiamo dei leasing, abbiamo dei finanziamenti che tuttora stiamo pagando e che pagheremo anche nei mesi in cui andremo a riaprire. C'è il sospeso delle persone che hanno pagato degli annuali, dei semestrali, quindi devono recuperare non soltanto il primo, ma anche il secondo lockdown, quindi noi dobbiamo fare affronte non soltanto ai problemi di oggi, a quelli che ci siamo attrassati del passato e a quelli che verranno in futuro. L'unica soluzione è aprire, oggi noi decideremo se sarà il caso, io domani insieme agli altri, noi continueremo queste aperture così, finché la gente non ci appoggerà e come diceva Winston Churchill facendo riferimento al fatto che sotto al cartello del vietato fumare se sia in 2 ti fanno la molta, se sia in 20 ti chiedono di spegnere, se sia in 200 spostano il cartello, a questo punto noi siamo disposti anche ad andare incontro a questi eventuali rischi, io personalmente sono pronto. Bene, e allora se non ci sono altri che vogliono intervenire, noi ci congediamo con questo bel cartello che è un invito così a resistere, a non abbassare la guardia, giù le mani dalle palestre, aggiungo io da parte di un abusivo al potere, qual è il Premier Conte, un uomo che non è stato eletto dal popolo italiano e che solamente per giochetti di palazzo si trova qui a governare un paese, l'Italia, portandolo allo sfascio, un abusivo che sta distruggendo l'Italia.